Sarebbe rientrato, secondo la prefettura locale, l'incidente alla centrale nucleare di Flamanville, in Normandia, nel nord-ovest della Francia. Il rapporto ufficiale parla di 5 persone leggermente intossicate del fumo, ma nessuna conseguenza maggiore. Erano circa le 9.30 del mattino, quando in questa struttura, nell'estremo lembo nord-occidentale delle Sagona, una ventola è esplosa, provocando un incendio e molto fumo. L'esplosione si era verificata in mattinata nella sala macchine della centrale nucleare, dove non ci sono elementi radioattivi. Secondo le autorità non c'è dunque rischio atomico o di contaminazione. I soccorsi sono subito giunti nella zona e i vigili del fuoco hanno assicurato il perimetro. Il reattore 1 è stato fermato, Flamanville conta tre reattori, uno di ultima generazione e il prefetto ha scartato qualsiasi ipotesi terroristica.